Dal 15 luglio cambia il sistema tariffario. Potrai spostarti in un'area più grande e viaggiare sarà ancora più facile. Cosa cambia? L'area viene divisa in nove zone. Il costo del nuovo biglietto varia in base al numero delle zone che attraversi. In metro e su tutti i mezzi, con un solo biglietto, viaggi quante volte vuoi. Entro la durata del biglietto. Il singolo biglietto ordinario dura 75 minuti per due zone, più 15 minuti per ogni zona in più. Quanto costa il nuovo biglietto? Ha un costo fisso di 80 centesimi, più 40 centesimi per ogni zona scelta, da un minimo di due zone in su. Il biglietto di Milano comprende tre zone e i 21 comuni vicini. Costa 2 euro e ti fa arrivare ancora più lontano. Viaggi quante volte vuoi entro i 90 minuti e puoi usarlo in metro e su bus, tram e filobus. Se vuoi viaggiare tra Mi 1 e Mi 3, l'abbonamento annuale costa 460 euro, quello mensile 50 euro. L'abbonamento annuale, entro i confini di Milano, resta invariato a 330 euro e quello mensile costerà 39 euro. Con soli 24 euro o 12 per i ragazzi, potrai usare con lo stesso abbonamento anche Bike.me. Il biglietto è gratuito per chi ha meno di 14 anni e può viaggiare anche da solo, con la tessera e nasce il tri giornaliero. Come adeguarsi? Tutti i biglietti emessi prima del 15 luglio 2019 saranno validi fino al 12 ottobre 2019. Chi ha già un abbonamento può continuare a usarlo fino alla fine della validità. Scopri tutte le info e le agevolazioni del Comune di Milano sul sito www.atm.it